Aggressioni, sopprusi e minacce di morte, una lunga serie di maltrattamenti che avvenivano ormai quasi quotidianamente e per i motivi più banali. Le sue vittime preferite erano gli anziani genitori ma anche la sua compagna, valvole di sfogo di una rabbia spesso generata dall'abuso di sostanze stupefacenti. A scrivere la parola fine su questa storia di violenza tra le mura domestiche ci hanno pensato i carabinieri che accogliendo la richiesta d'aiuto dei familiari, hanno messo le manette al loro carnefice. Si tratta di un 31enne di Terlizia arrestato in fragranza con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenze e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo la telefonata arrivata al numero di emergenza una pattuglia si è recata sul posto presso un'abitazione alla periferia della città. Rendendosi subito conto della gravità della situazione i militari hanno cercato in un primo momento di riportare alla calma il giovane ottenendo però l'effetto contrario. Alla vista delle divise il 31enne più volte minacciato di morte la madre tentando anche di colpirla. A quel punto ai carabinieri non è rimasto altro da fare che immobilizzare l'aggressore e ammanettarlo al termine di una breve colluttazione. L'episodio risulta essere solo l'ultimo in ordine di tempo di una serie di fatti analoghi per i quali in precedenza i militari erano già stati chiamati ad intervenire. Su disposizione della procura di Trani l'uomo è stato trasferito in carcere in attesa di comparire davanti al giudice.